nel videoclip precedente prima mi era spaccato una farange quello dopo siamo finiti in un fosso con la neve e oggi cosa mai potrebbe succedere secondo voi siamo qua con gli ego 3 che è una band molto famosa ormai ha due tre album 25 singoli videoclip che abbiamo già fatto ci sono delle palle dei cessi delle pal cose bianche ma quelle sono delle bottiglie cos'è quella roba sono tante bottiglie succhi di frutta vuote e stiamo andando a girare un nuovo videoclip che si chiama antonio a no ok sangue e vetro siamo in fase trucco la serietà regno sovrana che ci sono le cose e chi si riprende chi riprende vi assicuro che non è quello che sembra ragazzi non è quello che sembra no 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 in realtà il pinguino di batman ok siamo arrivati a un bel punto un bel pezzo avanti di questo videoclip il nostro cantante comincia a pentirsi ma è così che deve essere ragazzi e stiamo per fare la scena di sangue quale un'altra si un'altra l'ennesima tanto così vanno le cose così devono andare come diceva foscolo no 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 no